Martedì 20 febbraio, buongiorno ai telespettatori di Prima TV e Telenostra, ben trovati da Chiacchiere e Caffè, l'appuntamento con la rassegna stampa e con gli amici di Chiacchiere e Caffè per parlare di tutto un po'. Dal Barra alla Mesla, dal cuore di Avellino, oggi martedì e la città si è svegliata, gli ambulanti stanno preparando gli stand del mercato bisettimanale, voi ci andate al mercato, poi chiederò ai nostri ospiti, intanto saluto e ringrazio per essere qui con noi Antonella Rossoniello, buongiorno, ben trovata Antonella. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, sì, vado al mercato, certo, come tutti gli avellinesi che si rispettino. Il mercato ai tempi di internet e degli acquisti online, resistere, 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 ciao Claudio Papa, ben trovato, giornalista del Ciriaco.it, chiedo anche a te del mercato. Ci andavo una volta, adesso c'è poco tempo, molto di rado. Tra poco parleremo di tanti temi, naturalmente Claudio approfitterò della campagna elettorale, dovrò parlare con te, ci affideremo alla tua saggezza e alla tua esperienza per orientarci in questo grande caos che riempie un po' tutti i quotidiani. Tra poco vedremo le prime pagine perché tanti ci chiedono subito le notizie, poi dobbiamo andare al lavoro, subito le notizie. Tra pochissimo diamo le notizie, buongiorno, ben trovato al collega Delfino Sgrosso. Ciao Delfino. Ciao a te e buongiorno a tutti i telespettatori delle nostre Prima TV. E' una giornata come sempre uggiusa, come diceva il grandissimo Battisti, che accompagna i poveri mercatari, come li chiamiamo noi, al loro lavoro. E purtroppo è così, Avellino è la città dove piove di più, altro che Bergen in Norvegia, è sicuramente Avellino. Tu chiamale se vuoi emozioni, questa mattina cominciamo così, con lo spirito musicale perché la musica non deve mancare mai. Antonella poi magari ci dici tu un po' di musica, se Avellino da questo punto di vista è attiva oppure no, l'inverno piove, c'è da fare? Questa settimana particolarmente sì, Rainy Days. Bene, bene, allora per gli appassionati del genere tra poco tutti gli appuntamenti, diamo subito uno sguardo alle prime pagine. Da dove cominciamo? Delfino, scegli tu, vai, uno a caso. Io comincerei dal mattino. Dal mattino, dal mattino. Accontentiamo il collega Delfino, io ringrazio Claudio per l'assistenza. Inchiesta rifiuti, c'è ancora chi inquina. A parlare è Raffaele Cantone, sulle coballe appalti verificati, ma una parte del sistema è senza controllo. Il presidente Anac dice la politica ha cambiato metodo, ma sia più cauta anche nello stile. De Luca, tacca grasso, si vergogni contro di noi, operazione camorristica. L'inchiesta rifiuti, il governatore è contro Fanpage, non è giornalismo. IPM, gare flop per creare l'emergenza e ancora il commento sull'agente provocatore. Questa figura chiave dell'inchiesta portata avanti da Fanpage, inopportuno nelle indagini ed è anche pericoloso regolamentarlo con una nuova legge. Questa è l'apertura del mattino dedicata inevitabilmente ai temi della campagna elettorale. Poi c'è però anche un duello Sarri-Allegri, lo scudetto giocato a parole. Le parole invece della campagna elettorale, prima di andare a dare uno sguardo alle altre pagine, Claudio, questa campagna elettorale si sta caratterizzando per cosa? La prima fase di campagna elettorale è vissuta soprattutto sull'insulto, sull'attacco all'avversario, i programmi sono stati tenuti sullo sfondo. Adesso ovviamente l'inchiesta rifiuti e il caos che ha travolto, ha interessato la regione Campania, il presidente De Luca e i suoi figli. Il figlio getta un'ulteriore ombra di credibilità rispetto all'attività della politica. Il problema è che tutto questo poi si ripercuote nelle urne perché poi fomenta l'astenzionismo. Io credo che queste inchieste, la disaffezione verso la politica, aggiunta a una sorta di corsa a chi la spara più grande con le promesse, il canonerai, le tasse universitarie, il reddito di cittadinanza, la tassa unica, io credo che i partiti in generale debbano smettere di considerare gli elettori come dei villici con l'anello al naso perché poi alla fine l'esito è duplice. O si astengono o ti votano contro. Dovremmo registrare poi il 4 di marzo quelli che saranno i livelli di astenzione. Ci vorrebbe una legge forse, ne parlavamo prima, a microfoni spenti, così come per la Parcondicio, le ultime due settimane di campagna elettorale dove non si danno i sondaggi, forse nelle ultime due settimane di campagna elettorale evitare le inchieste potrebbe essere un modo per non aumentare o alimentare scontri. Anche il Presidente della Repubblica sui quotidiani oggi fa un po' da pompiere e invoca insomma la serenità ad un Paese che condivide dei valori. Certo, in questi periodi è difficile. Molto difficile, probabilmente forse più che evitarle, forse non pubblicizzarle, evitare che diventino oggetto di strumentalizzazione politica perché poi la magistratura fa il suo lavoro indipendentemente dal periodo in cui si opera. Certo, questo avvelena ulteriormente il clima, non rasserena, non fa in modo che l'elettorato si reghi alle urne in maniera consapevole. Dalla politica alla cronaca, con la prima pagina del quotidiano del Sud, del Fino Mi Aiuti, grazie. Agriturismi nel Mirino, nove chiusi. Blitz dei Carabinieri in tutta la provincia denunce multesalate, non rispetto delle norme su cibo e bevande. violazioni urbanistiche, l'operazione dei Carabinieri, ancora un'altra operazione dell'arma dei Carabinieri, impero ai sigilli terreni in Irpina, un sequestro da 160 milioni ad Avella. Anche qui la campagna elettorale con tutte le posizioni. E poi il calcio, taccone vicino alla cessione delle quote di maggioranza all'Italpol. Bidawi corre verso il recupero con il Novara. Grazie Delfino. Gli agriturismi, chiedo a te che sei anche un tecnico, potrebbero essere una risorsa per una terra come l'Irpinia e invece a volte diventano uno strumento per mettere a posto casa sostanzialmente. Sì, in buona sostanza sì, perché come tutte le cose che accadono, dove c'è la possibilità di infilarsi nelle pieghe legislative, ci si va con decisione, con fermezza e si va a sfruttare queste pieghe. Insomma, un agriturismo deve avere alcuni requisiti ben precisi, per cui non si può pensare di trasformare la propria piccola casa, il proprio fondo agricolo in un agriturismo così sic et simpliciter, ma bisogna rispettare alcuni parametri, soprattutto penso a quelli igienico-sanitari, in primis dal momento che è poi un esercizio aperto al pubblico, per cui c'è una certa proliferazione che però, come dici tu, nasconde in realtà soltanto l'esigenza di mettere a posto casa con soldi pubblici. Quindi alla fine è un po' triste perché questo si lega al comparto agroalimentare che è uno dei principali comparti di lavoro, di sviluppo e anche di futuro della nostra terra, perché è un comparto di tradizione. Parlavamo di parole, le parole della campagna elettorale, le parole della cronaca. Antonella, le parole del cuore invece, le nostre parole, quelle che in qualche modo ci spingono a compiere azioni, gesti, dove dobbiamo raccoglierle, dove dobbiamo tenerle? Ne abbiamo parlato già qualche altra volta sull'opportunità di scrivere, di utilizzare la vecchia, cara vecchia penna e carta per mettere su carta i nostri pensieri, i nostri obiettivi, poterli rileggere, poterci lavorare sopra e soprattutto attivare tutti i nostri canali percettivi per fare in modo che un ricordo, un proposito, un obiettivo vada a incidersi ancora più profondamente nel nostro subconscio, grazie proprio all'utilizzo del canale visivo, auditivo e cinestesico che si attivano quando si scrive. Quindi una cosa che tutti i grandi in fondo hanno fatto, da condottieri a scrittori, artisti eccetera, che vi consiglierei di fare è tenere un diario. Quindi torniamo ragazzini oppure no? Il diario è per i teenager oppure no? Tu ci stai dicendo che tenere un diario significa in qualche modo tenere anche la propria vita, non sotto controllo, ma comunque averla lì a portata di mano, sfogliarla. Noi tutti corriamo moltissimo, no? E a volte capita di arrivare tipo al venerdì avendo fatto una serie infinita di cose di cui tranquillamente ci siamo dimenticati, no? Grande stanchezza, magari sensazione di stress e la domanda, sì, ma che ho fatto? Chi ho incontrato? Cosa ho fatto di importante? Cosa voglio fare? E chiaramente sul diario, fatto in una forma agile, breve, veloce, noi possiamo ottenere traccia di tutto questo. Quindi intanto essere più consapevoli di ciò che abbiamo fatto, ma soprattutto utilizzarlo per anche annotare delle cose che vogliamo fare e magari a distanza di qualche tempo avremo la possibilità di fare un check e verificare se effettivamente abbiamo raggiunto un obiettivo o magari quell'obiettivo non ci interessa più e ne abbiamo un altro. Scrivetevi le promesse della campagna elettorale sul diario e poi andiamole a verificare, no? Veniva così da pensare. Giustissimo, giustissimo. Ma comunque, soprattutto scriviamo le promesse che facciamo a noi stessi. Ora siamo appunto all'inizio della primavera, insomma, vediamo già la natura che inizia a risvegliarsi. Di fronte abbiamo un magnifico albero di mimose fiorito e un ottimo momento per programmare cosa vogliamo fare della prossima stagione, programmare come prenderci cura, per esempio, del nostro corpo, come riorganizzare il nostro tempo libero, qualche nuova attività che vogliamo iniziare. Questo è un bel momento e comunque due righe. Tra l'altro è un piccolo rito, uno alla fine della giornata, per esempio, si ritaglia cinque minuti e in quel momento si raccoglie, fa il punto della giornata, fa un esame mentale di quello che ha fatto e si prepara in realtà anche a vivere meglio il giorno successivo. Ottimo consiglio. Naturalmente, se ci sono altre cose da dire, sul diario è un discorso molto interessante, quindi dimmi tu, anche nel proseguo della trasmissione. La prima pagina del mattino, qui invece sono annotate naturalmente sui quotidiani i fatti più importanti, le notizie del giorno e ad Avellino l'apertura è teppisti per noi, a città allo sbando. Quattro giovani devastano fiorieri e specchietti sul corso, denunciati dopo il raid. La polizia blocca anche una 35enne, prima l'assalto a un postamat, poi ad una finestra del tribunale. Poi c'è l'avvertenza Aias, pazienti verso il trasloco, si parla del centro di riabilitazione e delle decisioni che vengono prese in queste ore per assicurare comunque l'assistenza. Ancora, Gravina si avvicina all'80% dei lupi, si parla della trattativa per la cessione dell'US Avellino, ancora la campagna elettorale, cimiteri senza pace, torna la banda del rame, ancora un furto nei cimiteri alla ricerca, grazie Antonella, del rame. Delpino, su questa cessione dell'US Avellino, trattativa in corso, che idea ti sei fatto, che cosa c'è da augurarsi rispetto a queste manovre? Allora, l'idea che mi sono fatta è che Taccone si sia stancato, si sia un po' stancato perché ha capito che insomma l'Avellino in questo momento non sta rendendo assolutamente per quello che potrebbe rendere, per vari motivi che non stiamo adesso qui ad approfondire. non so chi siano questi signori della Italpollo, che è un'azienda che fa vigilanza privata di Roma, che ha sede a Roma ma di origini assolutamente irpine. L'unico auspicio che posso farmi, soprattutto da tifoso, è che si ceda a chi possa migliorare la squadra, a chi possa garantirle un futuro, a chi possa anche garantire la risoluzione finalmente di tanti piccoli problemi che sono intorno a questa squadra. Primo tra tutti la questione dello stadio Partenio, che è diventata davvero stucchevole con questo tira e molla con il Comune. Insomma, si sedessero a un tavolino, se si è capaci di fare un bilancio, io ho dato e tu mi hai dato, forse sarebbe il caso di chiudere anche questa carella per assicurare maggiore tranquillità e maggiore fruibilità di un impianto che altrimenti è destinato a marcire. Grazie Delfino, queste trattative nulla a che vedere con la campagna elettorale, Claudio. Torno sempre lì. Ufficialmente no, anche se comunque pare che ci sia delle vicinanze a alcune forze politiche, si è parlato di Rodito, chiaramente questi grandi movimenti finanziari legati poi alle società di calcio difficilmente sono totalmente slegati dalla politica. E' chiaro che poi per stare al discorso sportivo e societario se poi l'Avellino dovesse avere una prospettiva di stabilità ben venga chiunque esso sia. Buongiorno a Tonino D'Ambrosio che ci è venuto a trovare con il mappamondo tra le mani. Buongiorno Tonino. Il mondo tra le nostre mani lo dobbiamo volere bene a questo mondo noi. Niente, stamattina ho portato il mappamondo perché ho sentito prima Antonella che parlava di primavera in arrivo. Meteopeppe non lo vedo più. Salutiamo il nostro Peppino. Ti aspettiamo Peppino. Torna presto. Ci arrangiamo un po' con noi. Stanotte ho abbassato un po' i cannocciali ho visto sull'Europa che succedeva e purtroppo devo dare una notizia che forse a molti non piace che l'inverno sta arrivando. Sta arrivando l'inverno. Sì, andate che è primavera. Qua, sono fatti loro. Diciamo dalle steppe della Russia è in arrivo il Burian. Una sciabolata fredda. Speriamo che noi forse ci pigli un poco di sbieco ma sono attese nevicate a Nord Italia e ancora di più nell'Europa, in tutta l'Europa. Dove siamo? Noi siamo qui, vedi. Il nostro Luciano Mangiante va a zoomare su Barla Mesla di Avellino. E qui c'è tutta la squadra di chiacchiere e caffè di questa mattina. E niente, quindi ritornando alle previsioni ci attendono 15 giorni di brutto tempo. Quindi chi si deve attrezzare si attrezzi perché è piacevole anche il freddo quando si sta a caldo in casa. Se chi deve comprare il pellet e la legna lo faccia perché poi dopo se no sono... Una volta si diceva febbraio, corto e amaro e quest'anno viene confermato. Almeno le... Stanotte quello che hai visto tu questo dice. Però penso di non essere molto... Spero di essere anche un poco smentito ma secondo me... Ragazzi qui arriva la bufera. Stamattina abbiamo cominciato parlando del mercato bisettimanale. Le chiedo ad Antonio D'Ambrosio che tra l'altro è un commerciante storico. Il mercato nel 2018 resiste ancora? Questa tradizione, questa caratteristica anche un simbolo se vuoi della città Capoloco ma di tanti comuni di Irpinia. Allora io voglio fare una nota sul mercato. Io ho un'azienda agricola mia mamma aveva il banco del mercato sul Carmine, si diceva una volta. Io prima di andare a scuola andavo alla tanta leghiera qui a Via Piave andavo prima a fare il mercato con lei e poi andavo a scuola alle otto e mezzo. Era un popolo che si muoveva era una cultura era di incontrarsi, di chiacchierare era una cosa bellissima. Ora ho tanti amici che fanno ancora il mercato perché ho un'azienda agricola ho degli animali eccetera e tanti amici dei mercati sia di Triqualdi che di Avellino hanno adottato i miei animaletti quindi ringrazio pubblicamente stamattina perché qualcuno mi segue anche. Il mercato non è più quello di una volta almeno il mercato avellinese gli avellinesi che fanno il mercato sono quasi nessuno praticamente sono tutti forestieri come poi un po' tutto il commercio avellinese non esiste più diciamo così invece già a Tripalda è diverso a Tripalda è un paese di commercianti la maggior parte sono atripaldesi io parlo del paese il mercato è un bel mercato ci sono anche molti locali che partecipano però vedo che c'è sempre meno gente però voglio fare un'annotazione il mercato è il posto dove la frutta si pesa e dopo che ti prendi un altro mezzo chilocratis dove non si paga la busta dove invece oggi si va al supermercato ti pesano anche i 10 grammi la busta costa 10 centesimi e non c'è nessun rapporto invece il mercato è il posto del confronto dell'allegria del banditore che riesce a vendere le cose quindi... è un po' anche il posto del cuore per molti avellinesi allora noi rilanciamo insomma questo spot per il mercato oggi c'è il mercato fatevi un giro invece oggi... perché il mercato non è è un posto dove si incontrano anche le culture si incontrano anche le economie c'è il ricco c'è il povero c'è il banco dei vestiti usati ma c'è anche la bella roba che si può comprare quindi andate al mercato e possiamo incominciare a ridare vita ai nostri paesi con i mercati questo mi sembra un messaggio importante una cosa che noto è che i mercatini di paese purtroppo stanno finendo come stanno finendo i paesi ed è colpa di tutti quanti ed è colpa della politica oggi è il momento della politica e gli dobbiamo dire forte quello che sta succedendo è colpa di coloro che ci hanno governato che forse si ripresentano per governarci e che non se ne fottono non se ne fregano è colpa anche della globalizzazione non possiamo non parlare assolutamente sicuramente sì però le identità vanno conservate e non si fa niente per conservarle questo sicuramente grazie a Tonino andiamo a vedere anche le prime pagine di Repubblica in questo caso si parla di lavoro grazie Antonella in piazza la rabbia degli operai calenda intervenga l'Europa l'embraco conferma 500 licenziamenti e il ministro replica un'azienda gestita da Gentaglia poi ancora la Casa Bianca la marcia della generazione basta armi la protesta dopo la strage in Florida e naturalmente poi tutti i temi della campagna elettorale ancora sulla gazzetta dello sport scusami Antonella Ancellotti promuove Gattuso intervista Carletto racconta ringhio Immobile spacca due gol sorpasso Lazio Spalletti ora è quinto e devrai rompe andrà via Inter in polma occhio alle Euro Big e naturalmente poi grandi approfondimenti su tutti gli altri sport andiamo al Corriere della Sera via 497 operai IRA di calenda anche qui l'apertura dedicata allo scontro l'embraco conferma licenziamenti il ministro irresponsabile ora basta respinta la proposta del governo di Cassa Integrazione la questione arriva a Bruxelles poi ancora l'analisi perché la ripresa non cancella le crisi in azienda e poche idee meglio denigrare il fondo di Pierluigi Battista ti ha ascoltato Claudio Pierluigi Battista stamattina il nostro Claudio Papa aveva detto sostanzialmente le stesse cose in apertura di questa trasmissione Tonino sugli agriturismi tu che idee invece ti sei fatto su questa inchiesta avviata dai carabinieri io sono un contadino innanzitutto anche se imprenditore per una vita però io sono legato alla terra lavoro nella terra e spero di morire nella mia terra l'agriturismo è un termine un poco abusato oggi l'agriturismo dovrebbe essere che si somministrano le cose che si producono io forse posso dire anche se lo faccio gratuitamente con le scenette con gli amici eccetera forse sono è il vero agriturismo che c'è nel giro di 20 km perché gli altri vanno a comprare la carne al supermercato non sanno neanche cosa vuol dire crescere un pollo si pensa che le uova le fanno chissà chi nelle scatole nelle scatole quindi hanno fatto bene i carabinieri di intervenire perché bisogna regolamentare perché può essere la terra e il turismo che ne deriva una fonte di reddito per coloro che nella terra non ce la fanno più perché la terra oggi non non si riesce a sopravvivere oggi si vende un chilo di uva per fare il fiano a 50 centesimi anche se poi ho visto una bottiglia ora sono stato un po' in giro per l'Italia un po' in qualche giorno bottiglie di fiano avellinese a 30 euro bottiglie di greco a 15 20 contadini sfruttati esatto quindi l'unico modo per poter sopravvivere in agricoltura è quello di fare un poco di economia con la terra e in proprio invece chi la fa è gente che ha fatto dell'agriturismo un mestiere l'agriturismo è una fede è un modo di vita non assolutamente un mestiere ne hanno chiusi 9 ne dovrebbero chiudere altri 99 altri che 9 questo è il messaggio di Tonino Antonella invece torniamo un po' sul diario oppure se c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare delle notizie che abbiamo visto quello che mi ha colpito soprattutto riguardo alle notizie diciamo dell'episodio di vandalismo di cui si parlava prima la noia la noia la noia direi la mancanza di modelli positivi la mancanza di obiettivi positivi nella nostra vita possiamo fare dalla cosa più alta a distruggerla suicidandoci no abbiamo la libertà di scelta e il non riuscire a concepire qualcosa di migliore per se stessi che andare distruggendo vandalizzando in maniera così stupida ma proprio inutile insomma la dice lunga sul fatto che a volte diciamo saper fornire trovare esempi positivi ai ragazzi è importante ma anche per i ragazzi stessi cibare se stessi con qualcosa con un buon alimento mentale è fondamentale questi ragazzi probabilmente non leggevano e allora qual è ad esempio qualcosa da leggere tu stai parlando di cibo per per l'anima per la mente con consiglio anche ai ragazzi e non solo allora esiste una chiaramente una vastità leggere è una cosa che fa assolutamente benissimo sempre intanto perché migliora il nostro italiano già solo per questo ma in realtà perché un libro una biografia per esempio di una persona di successo racchiude nel giro di 200 300 pagine l'estratto di una vita intera quindi in realtà leggere è un ottimo modo per acquisire come persone di successo hanno fatto quello che hanno fatto e come poter trasferire questi modelli anche nella nostra vita quindi leggete le biografie di persone di successo questo è il grandi uomini persone di successo per acquisire modelli positivi è facile non ci vuole molto tempo e possiamo come dire acquisire le abilità di qualcuno che è diventato eccellente semplicemente leggendo la propria vita e chiaramente capendo cosa possiamo prendere e utilizzare per noi Delfino anche tu su questo discorso della della noia insomma e dei dei giovani che sembrano passare le loro giornate con uno sport preferito quello della devastazione su questo abbiamo parlato nelle scorse settimane molto di formazione di informazione qual è il messaggio da dare il messaggio da dare innanzitutto una maggiore attenzione da parte delle famiglie perché chiaramente si è inevitabilmente lo specchio della propria famiglia quella di origine quando questa questa famiglia non riesce a tenere a bada i propri figli può succedere possono succedere cose del genere indubbiamente la lettura e avere un interesse in primis lo sport che consiglio ovviamente a tutti lo sport è un interesse già fortissimo perché che fa crescere personalmente fisicamente e mentalmente ci sono alcuni sport in particolare e tu sai a chi mi riferisco ad esempio che hanno una forte connotazione mentale per cui essere robusti dico io tra le sopracciglia e la sommità della testa è la prima cosa rispetto a tutto il resto del corpo quello viene di conseguenza ti posso dire che anch'io da ragazzino c'erano dei momenti magari di noia però non mi è mai venuto in mente di andare a spaccare un lampione per questo motivo la noia è una giustificazione fine a se stessa è un modo per dire forse potevo fare un'altra cosa non l'ho fatto non ci ho pensato il vero problema è proprio questo il non ci ho pensato in una società nella quale tu chiedi una cosa lo metti su internet e ti esce subito una risposta senza il minimo sforzo questo non sforzarsi di capire di entrare di approfondire diventa poi nella vita reale quello che vediamo sui nostri giornali tenete allenata alla mente intanto grazie per questa bellissima pagina Tonino siamo quasi in chiusura voglio chiedere ancora una cosa a Claudio facciamo uno scambio Claudio ultimi 11 giorni di campagna elettorale che cosa dobbiamo attenderci in queste due settimane finali credo che purtroppo dovremmo attenderci un innalzamento dei toni sulla falsariga di quello che abbiamo detto prima con pochi programmi gli appelli al voto saranno più appelli diciamo non votare l'altro vota me ma non vota me perché io farò questo in maniera credibile è il costume purtroppo a cui ci è abituato da qualche tempo a questa parte della campagna elettorale credo che comunque poi gli elettori siano abbastanza informati abbastanza come dire capaci di distinguere la promessa scritta sulla sabbia dal candidato che invece può effettivamente realizzare quello che ha promesso in campagna elettorale quindi scegliere consapevolmente mi sembra di capire un po' questo il messaggio molti sceglieranno il giorno stesso gli indecisi decideranno in cabina purtroppo sì questo è scegliere il giorno stesso può essere diciamo sintomo di una decisione di pancia poco meditata poco razionale non è un bel servizio che si fa al paese prima di tutto poi a se stessi però è evidente che così soprattutto in assenza di programmi è chiaro che l'elettore indeciso sceglie il meno peggio secondo lui aspetteremo con trepidazione poi quelli che saranno i risultati noi detticheremo delle maratone agli speciali elettorali all'esito del voto agli scrutini Claudio ti prenotiamo naturalmente per essere in studio con noi Antonella abbiamo parlato di musica prima di chiudere io so che mostriamolo vediamo René Dei Cindy Rock di provincia parlavamo prima di giovani di noia eccetera eccetera coinert lab è un'associazione che è nata una quindicina di anni fa da tre ragazzi che all'epoca avevano 17-18 anni Paolo Pilone Carlo Iandolo e Oscar Cini che i piccolissimi li ho conosciuti in quell'occasione diciamo organizzarono un festival il primo festival di indie rock in città ma tra i primi in campagna che si chiamava Mass Fest qua da quattro anni a questa parte hanno detto ok che c'è la pioggia bene noi la battiamo come dire incontrandoci tra noi non ci sono spazi per la cultura la tavellina è una questione vecchia di battuta ok usiamo quello che c'è ovvero sia i locali e quindi è nato Rainy Days un festival di concerti appuntamenti gratuiti l'ho trovato in mio articolo sul mattino di oggi e che diciamo porterà nove concerti nel weekend da giovedì a domenica quando si dice non c'è nulla non si fa niente esatto questa cosa qui la dobbiamo dire perché da alcuni anni grazie alle associazioni c'è Coine ma non è solo Coine ad alcuni locali che si sforzano di portare diciamo musica diciamo indie per dire non commerciale diciamo indipendente alternativa diciamo che Avellino è una piccola Seattle in realtà rispetto anche a posti più vicini diciamo città più grandi per densità di abitanti abbiamo un'attività culturale effervescente che porta ad Avellino appassionati da fuori questa è una cosa da sottolineare allora spesso si va fuori per trovare non so penso a Salerno come sì sì è proprio così è proprio così in realtà diciamo alcuni di questi posti alcuni di questi concerti programmazioni richiamano tranquillamente diciamo avventori da fuori lo so perché ovviamente anche io seguendo la musica partecipo e quindi lo posso testimoniare ma soprattutto c'è questo tessuto per quello diciamo di giovani e anche diciamo di imprenditori che effettivamente puntano sulla cultura su un genere che diciamo in qualche modo è di nicchia ma non è solo questo perché poi abbiamo anche tutto il capitolo del jazz che non è da dimenticare per creare dei momenti in città di aggregazione positiva quindi diciamo i giovani possono anzi i giovani fanno queste cose e questi sono quelli che ci piacciono grazie Antonella grazie per questo messaggio Tonino a me mi vuoi sempre chiudere con i drammi che puoi fare quali drammi parliamo di cose belle però stamattina devo parlare purtroppo ancora di una cosa brutta nella valle del sabato di questi giorni la notizia che sorgerà un grande impianto per il bitume o altre cose varie un impianto mostruoso che si parla di 50.000 metri quadrati di impianto che penso che finirà di uccidere la nostra valle stamattina c'è un incontro all'Asi perché il presidente Asi ha chiesto di incontrare ai sindaci per spiegare naturalmente terremo accesi i riflettori sul progetto su quello che sarà anche se non mi hanno invitato io come al solito mi presento tanto male che va viene la Dicos mi caccia fuori tanto penso che andrò anche da De Luca perché mi sembra che viene a Vellino oggi mi andrò a trovare oggi sarà dal ripal del governatore De Luca impegni di campagna elettorale tanti big sì sì tanti big poi li ho provato a trovare anche io un poco appena arrivo la Dicos mi metta da una parte tu stai fermo lì brigante vabbè comunque saremo presenti e anche stamattina andrò perché io non mi fido più degli altri io devo sentire io con la mia orecchia anche perché io non mi fido proprio dell'Asi cioè l'Asi arriva che vogliono fare l'ampliamento dello stile mentre loro dovrebbero progettare lo sviluppo della zona industriale non si fa sicuramente con le montagne di Munnezza venendo qua stamattina se poi viene qualcuno a fare le riprese per l'incontro gli faccio fare dieci minuti di giro nell'Asi è un posto dove non c'è più una strada l'illuminazione non è mai esistita i rifiuti oramai li portano se fai un giro ci sono montagne di sacchi sacchetti che cosa fa sta gente cioè chi gestisce prende sedici mensilità e quindi devono lavorare invece non fanno un cazzo scusate non fanno un cavolo parliamo della terra parliamo della terra Delfino volevi dire qualcosa però sì Enzo in realtà sulle prime pagine c'è la questione di tutti i giornali c'è la questione rifiuti io in Campania a Taverna del Re ci sono 5 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti da smaltire ora direi visto che è una cosa super partes perché governi dal centro-destra al centro-sinistra della nostra regione non sono stati capaci di risolvere il problema direi oltre all'impianto di bitume nella zona asi consiglierei ai futuri sindaci candidati sindaco di Avellino di togliere di mezzo lo stir come dice il nostro amico Tonino perché lo stir è un deposito di spazzatura ma di avanzare l'ipotesi di mettere un termovalorizzatore di quelli veri di quelli che funzionano nelle città di Brescia Verona Vienna quelli che forniscono energia alla città e senza aver paura di avere ripercussioni negative perché bisogna formarsi e informarsi su come funziona un termovalorizzatore e quali sono i vantaggi per la nostra comunità che ne potrebbero derivare stiamo aprendo un'altra puntata stiamo aprendo un'altra puntata e il tema è molto interessante perché anche sui giornali di oggi troverete posizioni contrarie agli impianti di compostaggio ad esempio il sindaco di Montoro che sposa insomma vicino alla cittadinanza che dice no a questo impianto al confine tra il comune di Fisciano e di Montoro poi però il problema bisogna risolverlo e come insomma ne potremo discutere a lungo ma siamo in chiusura vorrei chiudere con le parole di Di Nunno quando hanno messo il CDR in un incontro che c'era anche Peppino Pisano eccetera disse mi hanno fatto fesso cioè quando queste cose che in altri posti funzionano vengono qua non funziona niente perché c'è la camorra ci sono altre cose che non rendono possibili anche delle opere d'arte che in altre parti fanno il loro dovere da noi non lo fanno alla prossima puntata grazie a Delfino Sgrosso grazie ad Antonella Rossoniello grazie a Tonino D'Ambrosio grazie a Claudio Papa grazie ad Alfonso Tarantino in regia quanti ci hanno seguito appuntamento a domani mattina con Chiacchiere e Caffè buon proseguimento con i nostri programmi ciao a tutti buona giornata grazie a tutti